Tutto oggi, siamo già verso la fine di novembre, non abbiamo avuto la possibilità di poter vaccinare almeno un 50% dei pazienti, i quali non fanno altro che rivolgere sempre da noi e iniziano un po' ad alzare i toni, perché avevamo detto che l'avremmo fatto in tempi idoni, tipo ottobre, tipo novembre, però se poi andiamo a sprafonare nel mese di dicembre si possono creare dei problemi non tanto sul risultato del vaccino, ma nella organizzazione della somministrazione. I medici di base ormai sono sommersi di chiamate e richieste di vaccini anti-influenzali da parte dei cittadini che soprattutto quest'anno hanno notevolmente aumentato la loro richiesta vista anche la concomitanza stagionale con il coronavirus. Nei giorni scorsi l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco aveva assicurato che un pugliese su due avrà il vaccino anti-influenzale, con un livello di copertura generale mai raggiunto prima. Si tratta di 2 milioni di dosi acquistate dalla regione nella scorsa primavera, in modo da raggiungere il 50% della popolazione totale, ma finora sono state distribuite 900.000 dosi. Questi vaccini li stiamo aspettando da settembre. Abbiamo avuto una prima tranche, una seconda, ma proprio in percentuale di un 40-50% massimo. Quindi stiamo aspettando che arrivi il grosso anche della vaccinazione. Quindi abbiamo un grosso disagio nei confronti dei nostri pazienti che sono i cittadini. L'assessore Lopalco intanto ha rassicurato tutti. Il picco influenzale arriverà dopo le vacanze di Natale e per quella data avremo raggiunto le coperture vaccinali. Noi speriamo che tutto si avveri.